Stavo in una stanza dove c'era un materasso, anzi c'era una rete, e non sapevo dove mettere i vestiti, tipo la stanza di Harry Potter, e dai giù a un cassonetto e trovai in frigo e mettevo nel freezer l'intimo, nel primo reparto ci mettevo le magliette e sotto maglioni. Obo Sodo è stato il tuo primo film, ma come sei arrivato a fare questo film? Perché se non mi sbaglio era ancora prima del nido del cuculo, giusto? Sì, è del 97, penso. E come sei arrivato a fare il film? Perché tra l'altro ho visto che hai fatto anche la pubblicità della Kinder, la Kinder Cereality. Ma fai ci racconti! Ma io perché io volevo fare il... io in realtà nasco perché io sono un appassionato di sci, io non ho mai fatto sport in vita mia, mi ricordo non sono mai andato al mare, cioè la mia mamma non mi portava al mare perché aveva un problema col caldo, col sole eccetera, e quindi io stavo a casa a guardare film. Però sei in forma, comunque sempre stato... No, beh, però non ho mai fatto sport, cioè io non ho mai tifato una squadra, io la domenica ne andavo al cinema a vedere due o tre film. Io fai conto che... Passione innata proprio! Io nel 99 vidi 315 film al cinema, cioè guardavo quattro film al giorno al cinema. Partivo la mattina al cinema Barberini di Roma, che facevo i matinee, e arrivavo la sera in una stamberga, in una stanzetta, pagavo 300.000 lire al mese a Giulia Agricola, che è un quartiere di Roma vicino a Cinecittà. E allora, non mi ricordo, mi vergogno a dirlo, mi ricordo, mio babbo non mi passava tanto, io mi ero messo da parte i soldi in un villaggio turistico, facevo un'università privata di cinema. Stavo in una stanza dove c'era un materasso, anzi c'era una rete, e non sapevo dove mettere i vestiti. Tipo nella stanza di Harry Potter. E dai, c'era un cassonetto e trovai in frigo e mettevo nel freezer l'intimo. Nel primo reparto ci mettevo le magliette e sotto maglioni. Mi immaginando ti mettevi le mutande però. Esatto, le mutande erano nel freezer, cioè che era un frigo di merda trovato in un cassonetto. E allora mi ricordo che in questa vita abbastanza, sicuramente precaria, mi tenevo da parte i soldi per andare al cinema. Mi ero messo, mi hanno fatto sto budget per andare al cinema e a un certo punto l'unica droga che ho avuto la fortuna di avere in vita mia, che è stata comunque una droga che mi stonava, era proprio quella del film. Cioè come se anche in questo momento io non vedessi te, vedessi un totale, dove vedo me, te, campo, con la mia quinta, con te, contro campo. Cioè, iniziavo a ragionare per linguaggio cinematografico. E questa cosa mi è servita tantissimo, perché poi dalla fine l'adattamento da una sceneggiatura alla regia, a me viene spontanea. Ma te quindi questa passione deriva... Esatto, non ti ho risposto, scusami Walter. No, ma quando tu mi dici perché ho fatto vosodo, perché io mi ero proposto come assistente alla regia. Io mi sono sempre proposto come assistente alla regia, venga a portare caffè, e mi hanno sempre pigliato come attore. Ah, inizio a te. E quindi Virgil mi fece un provino per fare il co-protagonista. Io ai tempi avevo la che fia al collo, ero un po' uno squatter, tipo occupante che saluta. Ah, al classico, no? Sicché facevo, capito, insomma, lo charmant sinistroide ai tempi. Ed essicché c'avevo questi capelli lunghi, un po' così, e il personaggio che poi ha interpretato Marco Cocci era Rasta, eccetera, eccetera. Allora io ho emozionato, faccio il primo provino, il secondo provino, il terzo provino, alla fine mi dicono, vieni a Cinecittà, c'è da fare l'ultimo provino, siete rimasti in tre. Io, Marco Cocci, e un altro ragazzo, che poverino non c'è più, si chiama Nicola Vukic. E succede che quando io dovevo andare a Roma, non avevo i mezzi, vado dalla mia mamma e dico, mamma, devo andare a Roma, boia che bellezza, devo fare il provino, l'ultimo provino per fare sto film, è la co-protagonista, da un Paolo Vizzi, ma ti rendi onto, mamma? Dei, ma ora cosa devo farmi? Dai i 50 euro per andare in treno? No? E io, capito, ero tutto così, capelli lunghi, sfatto, con l'eschimo, no? Cioè, devo, non c'andrei mia, o sì, eh? Fatti i capelli, mettiti una giacca, una cravatta, un posto di lavoro. Si chiedeva, si aspettava di trovare il personaggio, uno... Trasandato! Trasandato, sui generi, eh? E vede me che sembravo pronto per fare un colloquio di lavoro alle poste. Ci è rimasto male, come minimo. Mi ha detto, sei un coglione. Ma hai detto alla madre. Perché lui ti aveva preso come quella figura che rappresenta... No, no, c'avevo i capelli lunghi, cioè, ci stavo in quel ruolo ai tempi, non ero così con la camicina. Quando è arrivata la notizia, ok, sei stato preso... No, infatti, no, poi me sono stato preso per fare un po' il fascistone che è il compagno dietro di banco. Comunque sei stato preso. Esatto, e poi ci rimasi malissimo perché andai, il film andò a Venezia, e io, insomma, mi vidi per la prima volta al cinema, per me fu scioccante, perché, insomma, mi sembravo molto più vero sullo schermo che nella mia verità insoggettiva, che sto vedendo anche adesso, e successe che poi quando c'erano i titoli di coda con tutti i nomi degli attori, c'era il nome dell'attore che interpretava me da piccino, e non c'ero io. No. Ti giuro, ci rimasi malissimo. Però mi dissi, cacchio, forse sto film diventerà l'inizio di guardare. Cosa, hai detto, mi sentivo molto più vero nello schermo. Interessante questa cosa, cosa intendevi dire? Beh, questa è una cosa, non so se è da Gurulandia, da ora ci mandano a quel paese. No, no, però... No, qui siamo un po' a 360 gradi, quindi... No, nel senso che tu ora quante prove c'hai e stai vivendo? Quante prove? Cioè, quando te ti vedi in un film, e tu rivedi che hai fatto un film, tu c'hai la prova, che quella cosa lì l'hai vissuta. Ah, ok, ah, sì, in quel senso, sì, è un botto, è una migliaia. Non solo, tu l'hai vissuta e non eri te, perché interpretavi un personaggio. Ok. Poi se vuoi ti consiglio dei libri su questo, ci va in paranoia, però è un bel concetto filosofico. Ma senti, una domanda, dopo questo film, se non mi sbaglio, te non è che poi subito hai continuato la carriera d'attore del mondo spettacolo, ma hai fatto l'animatore, giusto? Facevo l'animatore, io ho appena finito il liceo, sono andato, sì, l'estate sono fatto l'animatore, poi ho iniziato a studiare, poi ho rifatto l'animatore, lo facevo l'animatore un po' per mantenermi. Ah, quindi portavi avanti tutte e due le cose? Sì, sì, però la mia carriera da animatore turistico fu fulminante, strepitosa, poi diventai direttore di crociera a vent'anni, che era una cosa abbastanza... Dove hai lavorato come animatore? Ho lavorato tantissimo in montagna, a Borca di Cadore, vicino a Cortina, d'estate a Roccaruia, era un villaggio di una società, anzi non a Tormina, a Giardini Naxos, sì, ho fatto qualche stagione e poi in nave. La vera esplosione di Paolo Ruffini, secondo te c'è un momento particolare in cui dici ok, sono arrivato, ce l'ho fatta, esatto. Allora, io ho finito i villaggi e ho iniziato a lavorare in comune, praticamente, e timbravo il cartellino alle sette e mezzo e poi alle quattro e mezzo. Che sarebbe per tantissimi il sogno di una vita, si può dire. Ah, sì, 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 sì. È il tipico posto fisso. Il posto fisso, sì. Succede che a un certo punto c'era MTV che stava cercando un VJ e che era un concorso, fai conto tipo amici, cercasi VJ, a tempi MTV era strepitoso, e mandai la cassetta dove facevo la parte di Ovo Sodo, ma non ci credevo nemmeno tanto. E a un certo punto, quando ero in diretta a TRL, c'era, mi ricordo, Maccarini forse, che era entrato l'anno prima e conduceva a TRL con Giorgia Surina e mi disse, dai Paolo, dicci qualcosa. Poi ero veramente uno scapigliato vero, e disse, a me mi stanno sul culo bibi pettiti. Ma in che senso ti stanno sul culo? E io ho un tatuaggio sul culo, ho bibi pettiti piccati e Bill Coyote e Gatto Silvestro e si stringano la mano. E sì che gli feci vedere il culo in diretta ad MTV, anche lì oggi, e quella cosa fu sintomatica del fatto che comunque crebbero dei consensi e poi a un certo punto mi presero proprio nello staff di MTV e facevo il DJ fuori, perché non ero allineato in certi canali. Ma cos'è il DJ, scusa, perché ho letto dove c'è scritto VJ? Era il DJ soltanto in video. Ah, ok. Ai tempi MTV era una roba che non c'è, nel senso se tu mandi in onda una giornata a caso di MTV del 2001, 2002, 2000, oggi è avanguardia pura. Cioè, oggi arrivare ai tempi, arrivare oggi a quello che editorialmente, artisticamente, autoralmente si faceva a MTV con Andrea Pezzi, oggi siamo tornati, oggi è come il 1600. Siamo proprio nel medioevo. Cioè, la televisione oggi, rispetto a quello che era in TV 25 anni fa, è medievale. In TV c'è la roba figlia, eh. Cioè, è stato top of the pop, anche se lo guarda. Pimp My Ride, erano americani. Sì, sì, però lì c'era l'itliste, però erano cose, cioè dove, che ne so, Francesco Mandelli. Grande. Cioè, che iniziava a fare personaggi. È vero, è vero, è vero. Per parlare, appunto, di grandi professionalità. Cioè, Cestrin, c'era Paola Maugeri, c'era chi se ne intendeva davvero di cinema, ma anche nell'intrattenimento, lo stesso Biggio. Già, è vero, è vero. Cioè, da lì è nato, ma Cattelan conduceva TRL, è partito da lì. Cioè, il TV era una fucina di talenti straordinaria, e io lì feci i primi passi, e il padre mio, forse tutti sanno che questa storia è raccontata pochissimo, ma io devo tantissimo a Luca Bizzarri. Luca Bizzarri era consulente di storia di TV ai tempi, loro, con lui, con Paolo, Luca e Paolo facevano una trasmissione di trip, dove andavano in giro con una cassa da morto, una di quelle macchine, no? Dove portavano le bare, andavano lì e facevano questo format, è stravagante. Lui era consulente di storia di TV, mi vide quel giorno a TRL, ci trovò qualcosa, e mi disse, guarda, io non so se vincerai, però io vorrei curarti un po', e mi diede dei consigli, mi fece dimagrire, mi diede da imparare, diceva in un corso d'inglese, guardati tutto il David Letterman e poi torna da me. Ma perché dimagrire? Cioè, era importante… Ma perché, dè, ora vabbè, stai, ho 45 anni, no, ma te stai in forma. Eh, oddio, un pari di mesi non fu palestra. No, no, dico, perché era così importante per Luca. Perché ai tempi, ai tempi, forse, sai, quando va in televisione, comunque anche l'aspetto era… poteva forse chissà, mi disse questa cosa… L'immagine è importante, è chiaro. Boh, forse sì, mi disse, ma no, non è che… I tempi più di ora. Cioè, ero… io lavoravo in comune ed era una boa ai tempi, cioè, ero un pochino più grossottello, perché sai, mangi immenza, mangi tanto, cioè… Non ti muovi. Dunque, alla fine non mi hai risposto, tornando alla domanda originaria, è quello il momento in cui hai detto, ok, sono arrivato… Eh, sì, è quel momento, e forse l'anno dopo, perché ho preso l'aspettativa dal comune l'anno dopo, in cui ho dovuto dire a mio padre, guarda, mi lancio in questo lavoro, mio padre è un grande scoglio, è stato per me, ora non c'è più, e quando lui mi disse ti prendi la responsabilità di questa scelta, io me la son sentita e l'ho fatto. Però quando era in TV, lì ci sono stati degli spartiacchi, 2003, 2002 è in TV, 2005 Natale a Miami, 2011 Colorado. Per me questi tre sono state le tappe che hanno segnato un po'. Eh, ci racconti anche del primo cinepanettone, come è andata, cioè cosa devi fare, fai te un provino, ti handi di te… Mi chiama Aurelio De Laurentiis, che era uno degli ultimi grandi produttori che ci sono stati, sono veramente indipendenti in Italia, infatti, perché devi sapere che De Laurentiis parla come Ruggero De Ceglia dei soliti idioti. Ah, ok, ok. Ah, dai cazzo, beh, scusa, allora senti, ti volevo dire… Cioè, penso che Francesco si sia ispirato, beh, allora senti, ma sei strunzo se non accetto il cinepanettone, se non è una testa di cazzo, e quindi mi chiama, io butto giù perché penso che era uno scherzo, e mi dice, beh, ma là sei proprio stronzo, scusa, ti sto dicendo che te offro uno dei film più importanti del cinema italiano, cazzo, e devi farlo, tocca venire, scusa, andiamo a Miami, gli italiani sognano, sognano ad andare a Miami, fanno un film comico, tu scureggio, no, non disse così, il senso era quello, e voleva la comicità che faceva quell'intrattenimento, e tu non sai, quei film incastravano tipo 25 milioni di euro, vuol dire che 6 milioni di italiani andavano a vedere, è incredibile che poi non vengono trasmessi in televisione, no? Perché lui per una questione di diritti, ma che cazzo vi frega dei diritti in tv, e quindi non vanno e rimangono nell'immaginario collettivo, però tu non sai cosa significa nel 2005, come dire, affidare la giornata di Santo Stefano, il pomeriggio di Santo Stefano a me per farti ridere, e pagare ai tempi magari quei 7 euro, 8 euro, per andare a vedere un film che sai che rimarrà nel tuo immaginario collettivo, e oggi, ancora oggi, di queste 6 milioni di persone che andarono al cinema all'epoca, ne trovo ogni tanto qualcuno che mi ringrazia per aver fatto passare un bel pomeriggio in barba, e ti dico, questo per me vale molto di più, di tanti che mi dicono che faccio minchiave, e poi la risposta è sì. Senza irresponsabilità? Io te lo dico anche non perché ci sei davanti, quei film per me fanno proprio parte della mia infanzia, proprio… I film erano meravigliosi, ma poi sai, il concetto vero è che, vedi, io faccio tante riflessioni, a me mi dicono, boh, pensavo fossi un coglione, pensavo che tu non riuscissi a fare un ragionamento, ma guarda che per fare quel tipo di film lì bisogna essere serissimi, serissimi e preparatissimi, cioè paradossalmente il cinema drammatico, non voglio, ora, tu ti esci, però il cinema, ti hai capito se voglio dire, cioè a volte il cinema drammatico ti aiuta all'espressione che c'hai, il cinema comico, è vero che Massimo Voldi è un cartone animale, sai che io ho fatto un film dove c'è la summa di tutti i film di Natale, Massimo Voldi è l'attore che ha comparso più volte nudo nella storia del cinema italiano? Veramente? Non lo sapevo. Sì, 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 è sempre nudo, però i bambini, se vedono Massimo Voldi nudo, Massimo Voldi nudo, è come se vedessero Gatto Silvestre, cioè non pensi a una sessualità, capito, quindi quei film avevano il vantaggio, cioè la volgarità vera è la critica che ha massacrato un genere in maniera volgare, tacciando quei film e chi li vedeva di scarsa intelligenza, loro sono stati volgari, però per me era veramente un onore, io quando dai sul set con Massimo Voldi e Cristiano Di Sica ho detto, sì, come dici te, ok, ok. Ma a te ti sei cagato un po' addosso quando t'hanno chiamato? Sì, perché mi sentivo un imbecille, perché comunque poi quando arrivavi sul set, io arrivavo, io avevo nel 2005 27 anni, stavo per farne 28, era l'estate, e io arrivavo come un imbecille con lo stralcio della sceneggiatura, sai che ti ripeti le battute, no, mi ricorda arrivò Cristiano Di Sica e arrivò da me e dice, senti quando dici a Massimo, scusa padre di Paolo, non è colpa mia, digliela così. Cioè, Cristiano Di Sica sapeva le mie battute. Incredibile. Ma non del giorno, di tutto il film. Cioè, allora io lì ho detto, vedi che forse, no, quando tu da casa pensi qualcosa, c'è sempre un grande artista che te la lascia pensare quella cosa, tu continua a pensarla, che nel frattempo io lavoro, cioè, dite quello che volete, nel frattempo io lavoro per chi ha voglia di vedere le mie cose.